100 famiglie sono da giorni senza corrente elettrica condominiale a causa di un distacco operato da una società che è subentrata da Enel all'insaputa dell'amministratore. I carabinieri hanno avviato un'indagine. Celebrata a Fano la messa in occasione del precetto pasquale Interforze. Giovani con una forte rappresentanza di donne e tanta voglia di fare del bene agli altri, l'Avis di Fano rinnova così il suo direttivo. L'associazione Olea porta in dono bottiglie di olio extravergine di oliva alla mensa per i poveri di San Paterniano. Questo è il telegiornale Occhio alla Notizia con Marco Ferri. Benvenuti cari telespettatori di Fano TV a questo nuovo appuntamento con l'informazione locale sul canale 17 di Fano TV. L'avete sentito dal titolo in apertura a San Lazzaro di Fano, un quartiere appunto della città. Ci sono circa un centinaio di famiglie che ormai da diversi giorni non hanno la luce condominiale, quindi con conseguenti disagi per televisione, ascensore e quant'altro. Tutto questo perché lo vedremo tra un istante nel servizio di Vino Balestra. A Fano, 98 famiglie da lunedì sono senza corrente elettrica. Siamo in via Vivaldi, zona stadio, per un cambio di gestore elettrico dai risvolti ancora avvolti nel mistero e del quale nemmeno l'amministratore condominiale ne era a conoscenza, ad un intero stabile di sette piani è stata staccata la corrente per l'utenza comune, di punti in bianco e senza nessun preavviso. Centinaia di persone lasciate senza ascensore, niente luce nelle scale e niente televisori. Una situazione paradossale. Allora all'inizio pensavamo che c'erano dei lavori qui vicino, qualche cosa nella linea, invece no, perché ha cominciato a ripetersi tutta la giornata. E niente, si pensa che ci sia una truffa, che qualcuno comunque ha firmato, non lo so, insomma a mano di un altro, per qualcun altro, ma noi non abbiamo firmato nessun cambio di gestore. Ma mentre i carabinieri cercano di capire che cosa si è successo e come sia stato possibile e da chi e per quale società sia stato fatto questo cambio e come soprattutto sia venuto in possesso dei dati sensibili per poterlo effettuare, i poveri condomini sono dovuti correre ai ripari, almeno per poter vederla a televisione. Abbiamo dovuto attaccarlo, il contatore, in un altro utente. No, utente, nei nostri contatori. Quindi avete commutato la corrente del condominio nei vostri. Sì, provvisorio, però nell'ascensore non va niente, solo per vedere la luce delle scale e le televisioni. Disagi su disagi, oltre al danno, anche la beffa ora per chi sta ai piani alti. Qui siamo a 98 famiglie, quindi è gente che non può prendere l'ascensore perché rischia di rimanere dentro. Tanti disagi, gente che naturalmente è dentro a casa. Specialmente la gente anziana, come quel signore che non può prendere l'ascensore, praticamente in caso mio è diverso perché sto in basso. Chi ha firmato il modulo per il cambio di gestore e a nome di chi ha fatto il nuovo cambio? I carabinieri dovranno risalire alla società iniziale e capire la richiesta di distacco da chi è pervenuta. Dubbi che vanno chiariti molto presto. Nel momento attuale va via, poi in qualche modo noi la rialziamo, ma quando loro magari si accorgono dell'assorbimento sicuramente la tolgono. E notizia di qualche minuto fa, qui chiedo l'aiuto della regia perché le immagini sono arrivate poco fa. Ce le ha inviato un nostro reporter di strada di nome Marcello che ringraziamo naturalmente. Vedete praticamente nei palazzoni di fronte a quelli a cui ci siamo, che vi abbiamo fatto vedere poco fa nel servizio, quindi siamo in via Corelli, sempre a San Lazzaro, ci sono intervenuti poco fa i vigili del fuoco per una fuga di gas o perlomeno qualcuno aveva sentito odore di gas, per questo hanno chiamato il 115 e i vigili del fuoco sono prontamente giunti sul posto che però, come vedete dalle immagini, poi dopo pochi minuti sono ripartiti, sono rientrati in caserma. In mattinata è stata celebrata a Fano la Santa Messa in occasione del precetto Pasquale Interforza a cui hanno partecipato tutte le forze armate di Polizia del territorio. La celebrazione, accompagnata dai canti del coro maschile dell'Associazione Nazionale Carabinieri dell'Aspettorato Regionale Mar che è stata ufficiata dal Vescovo della Diocesi di Fano Fossombrone Cagli Pergola insieme al cappellano militare della Guardia di Finanza, padre Giancarlo Locatelli Vivete la vostra professione come vocazione, ha detto il Vescovo Trasarti secondo l'ottica della fede, tesa a migliorare e consolidare le relazioni tra le persone e a trasmettere un messaggio di luce e di positività per essere strumenti di autentico progresso umano e civile Uno dei momenti più intensi della celebrazione è stato il ricordo di chi ha sacrificato la propria vita prestando servizio nei vari corpi e la preghiera per la patria sulla quale si è invocato il bene prezioso della pace E nel giorno dedicato alle donne vi vogliamo parlare di un'azienda tutta fanese nella quale la quasi totalità dei dipendenti è donna Sul fronte delle imprese marchigiane le donne fanno meglio degli uomini sarà perché sono abituate da sempre a far quadrare i conti del bilancio familiare o semplicemente perché sono più determinate e motivate dei loro colleghi maschi In ogni caso le imprese guidate da donne hanno dimostrato di reagire alla crisi meglio di quelle guidate da imprenditori Nei primi sei mesi del 2015 sono nate 1580 aziende femminili mentre in 1679 hanno cessato l'attività con un salto negativo di 99 unità Molto più pesante però il bilancio delle imprese maschili rispetto a 3913 iscrizioni hanno gettato la spugna in 4363 con una perdita di 450 aziende E' questo il dato che emerge da un'indagine del centro studio di CNA e confartigianato La recordata di Fano è una di queste realtà e noi siamo andati a conoscerla Penso che le donne, coloro che lavorano sia come prenditrici sia come lavoratrici sanno di avere una grande forza che è quella di sapersi occupare di mille cose e qui in azienda bisogna occuparsi di mille cose e quindi siamo molto adatte e capaci nel lavoro Un'altra grande caratteristica delle donne sicuramente è la determinazione ma anche la capacità di agire distinto e quindi di saper cambiare l'azienda anche a seconda di come cambiano i tempi Un'altra cosa che volevo dire perché penso che ci caratterizzi è quella di lavorare con la testa ma anche col cuore quindi con passione C'è un numero ricorrente che ha un significato specifico il numero 8, perché? Allora perché? Perché questa iniziativa partirà l'8 marzo sarà appunto dedicata a tutte le donne ma non si fermerà qui perché l'8 ci accompagnerà saranno 8 le imprenditrici che andremo a intervistare e oltre a queste intervistate 8 ci accompagnerà perché? Perché saranno anche tutti i momenti formativi che noi gratuitamente andremo ad offrire a sia imprenditrici affermate ma anche giovani donne che vogliono scoprire gli strumenti innovativi per appunto fare impresa Chiunque voglia partecipare, imprenditrice o giovane donna che voglia scoprire questi contenuti formativi ci può trovare digitando record data su Google quindi andando a visitare il nostro profilo social su Facebook il nostro sito è internet mandateci un'email, chiamateci insomma cercateci che noi risponderemo Stiamo girando per diverse aziende della provincia di Pesaro e di Ancona e abbiamo intervistato queste imprenditrici cercando di capire anche i loro segreti e come hanno fatto ad avere successo nel lavoro Noi pubblicheremo tutto il materiale nel nostro canale YouTube e nella nostra pagina social Poi c'è una scatola magica che avete ideato Che cos'è? Allora questa scatola la prendo? In questa scatola è contenuto qualcosa Cosa? Cosa? Questo non lo svegliamo Però si tratta di sensazioni, esperienze, esperienze di vita vita privata, vita lavorativa e quindi da qui partiranno un sacco di emozioni di queste nostre imprenditrici Ed è stata inaugurata oggi nei giardini della Rocca Malatestiana di Fano la panchina rossa simbolo dedicato a tutte quelle donne vittime di violenza che purtroppo ancora oggi sono protagoniste loro malgrado di terribili fatti di cronaca questo sarà solo il primo dei tanti appuntamenti contro la violenza sulle donne che si svolgeranno durante il mese organizzati dal comune di Fano e ci sono donne anche nel nuovo direttivo dell'Avis che è stato presentato oggi alla stappa Siamo qui per presentare oggi il nuovo consiglio dell'Avis di Fano per il prossimo quadriennio fino al 2021 è una squadra molto giovanile, molto rinnovata ci sono otto nuovi inserimenti in questo consiglio tra cui vedono sicuramente la presenza molto femminile perché ci sono sette donne e soprattutto anche oggi nel momento che la festa delle donne è un valore ancora di più importante per la nostra associazione è l'aspetto che io reputo ancora più importante che ci sono sette nuovi giovani under 40 tra cui poi cinque sono under 30 quindi un inserimento di giovani importantissimo proprio questo scambio intergenerazionale che si sta avendo nella società dove la società ha sicuramente degli aspetti difficili pensiamo al mondo del lavoro pensiamo comunque sia al mondo dell'integrazione dove il sangue sappiamo benissimo che invece non ha discriminazione né di sesso né di religione né di sangue quindi invitiamo sempre di più i donatori presenti a far partecipare alla vita associativa pensiamo a tantissimi eventi che l'Avis organizza durante l'anno al di là delle giornate del Donor Day che sono tantissime agli eventi molto partecipati come color la vita alla fiaccolata del donatore in cui tantissimi donatori partecipano con centinaia se non migliaia di presenze quindi crediamo e crediamo che i donatori si presentino alla nostra vita associativa fatta di valori come tra i più importanti c'è quello della cittadinanza attiva l'Avis manda sempre un messaggio importante perché è quello il classico di salvare una vita come capitale umano e capitale sociale è proprio questo il capitale sociale la crisi economica in cui versano le associazioni le associazioni sportive fanesi a generare i debiti secondo l'Udc e progetto Fano sarebbe stato il mancato versamento da parte del comune di Fano di alcuni contributi che ammontano a circa 200 mila euro Vullus delle società sportive che non ricevono i contributi sta diventando qualcosa di esplosivo siamo veramente in termini pesanti beh io due settimane fa ho fatto proprio un accesso agli atti perché alcune società lamentavano il fatto di non essere state pagate nel 2016 il saldo che hanno tutti gli anni e in effetto abbiamo scoperto che c'è stato un taglio enorme nel senso che nel 2016 ormai l'anno è chiuso anche contabilmente e non gli hanno dato circa 114 mila euro quindi una cifra enorme quindi non è stato pagato nel 2016 in più nel 2017 abbiamo approvato il bilancio qualche settimana fa ci era stato detto dal sindaco e dall'assessore quindi dagli divisenti che i servizi sarebbero stati garantiti tutti i tagli non ci sarebbero stati se non delle piccole taglie trasversali intorno al 5% invece scopriamo che quest'anno al posto di erogare i 170 mila euro del primo acconto ne sono stati erogati 72 perché non ci sono i soldi in bilancio quindi ci hanno mentito sbudoratamente in Consiglio Comunale e noi l'avevamo detto durante il Consiglio Comunale che questo bilancio aveva dubbi di legittimità ed è oggettivamente quello che stiamo riscontrando perché molte delle voci che compongono questo bilancio quindi i soldi dei cittadini francamente sono state distratte per altre attività evidentemente quindi vanno a mancare circa un 200 mila euro alla società sportiva tra il 2016 e il 2017 questo comporta per la società di non avere dei soldi in bilancio quindi per le gestioni dei campi che sono comunali lo vorrei ricordare non sono privati che il comune ha delegato a gestire le società sportive il comune non paga questa è la situazione che è emersa è una cosa gravissima mai successa le varie società lo dicono in 25 anni che più o meno gestiscono queste strutture mai successo prima quindi una cosa che noi abbiamo voluto evidenziare con un'interrogazione che abbiamo presentato in consiglio comunale e chiederemo al sindaco intanto perché ci è venuto a dire cose false palesemente false in consiglio comunale e nelle commissioni e poi se ha intenzione di sistemare una situazione che porterebbe molte società sportive a riconsegnare le chiavi e le strutture al comune se continua così quindi quali sono le risposte questo è il quesito che porremo in consiglio comunale ci auguriamo che possa dare una risposta positiva e dare certezza a queste società che altrimenti veramente dovrebbero chiudere e si profila una proroga per la rottamazione delle cartelle esattoriali il vice ministro dell'economia Luigi Casero ha infatti preannunciato in commissione finanza e la camera parere favorevole ad un emendamento che sposta la scadenza che per presentare l'istanza dal 31 marzo al 21 aprile se l'emendamento presentato dal decreto al decreto terremoto sarà dichiarato ammissibile avrà quindi il via libera dall'esecutivo nasce l'unione dei comuni di Pesaro Vallefoglia Gradara Gabice Mare Montellabate Tavuglia Monbaroccio l'obiettivo ha commentato il sindaco di Pesaro Matteo Ricci è dichiarato da inizio mandato cioè associare i comuni e pensare ad una pubblica amministrazione differente questa che nasce oggi ha giunto Ricci e la dimensione territoriale del vecchio piano intercomunale Giovanni Montaccini neosegretario del comune di Pesaro sarà anche il nuovo segretario dell'unione la più grande delle marche sottolinea l'assessore Antonello Delle Noci è una delle più grandi d'Italia entro marzo tutti i consigli comunali approveranno le fasi successive da aprile ci sarà un'unica variazione di bilancio e i sindaci poi comunicheranno il nome della nuova unione dove confluiranno i servizi l'unione nasce a sette ma con le porte aperte per accogliere altri comuni bottiglie di olio extravergine per la cucina della mensa di San Paterniano la mensa che si occupa di dare un pasto ai poveri sono state donate dall'associazione Olea rinsaldato anche quest'anno lo stretto legame che Olea tiene da diversi anni con la mensa dei poveri di San Paterniano ad arrivare sulle tavole della mensa l'olio che i produttori hanno inviato all'associazione nazionale per l'annuale concorso l'oro d'Italia 2016 che l'associazione di promozione di uno dei presidi di maggior pregio in ambito alimentare che l'Italia possa vantare organizza da diversi anni per la verità l'olio extravergine di qualità non è così ben conosciuto nel mondo e noi dedichiamo il nostro tempo proprio alla divulgazione e alla valorizzazione che questo prodotto merita in questi giorni è in atto la selezione e l'evalutazione degli oli per l'edizione 2017 che anche essi finiranno sulla tavola della mensa che riceve questo frutto della terra donato dai produttori con una duplice gioia questo gesto va oltre la generosità e il fatto materiale di darci dell'olio ma innesca un circolo virtuoso perché innanzitutto consente di assaggiare di assaporare di gustare un'eccellenza nazionale del nostro territorio anche a coloro che sono più svantaggiati che magari non potrebbero permettersi di comprare queste prelibatezze a suggellare questo forte legame tra territorio e denti di carità Monsignor Armando Trasarti presente alla cerimonia di consegna fare il bene fa bene fa star bene la gente che lo tiene ma fa star bene anche chi lo fa se vuoi star bene fa il bene e farlo bene però senza ostentazione con umiltà ma sempre con quella mano tesa e mai rancorosa ed è tutto grazie per aver seguito Occhio alla Notizia l'appuntamento con l'informazione torna domani mattina in diretta alle 7.30 con la rassegna stampa Occhio ai giornali a voi tutti l'augurio di una buona serata Grazie a tutti a tutti a tutti Autore dei sovrapposti